Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Fedeyu ritaglia tutto e clippa Fedeyu ritaglia tutto e clippa Questi sono centomila visual facili Con te in copertina Un drink Ti devo offrire almeno un drink Che succede molto? Nooo 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 Che pozzo Non mi dispiacerebbe Farmi un drinkettino nel chilling Ragazzi io mando il raidino ad Ancol Tanto noi 5 minuti siamo lì quasi Fate 10 A 10 minuti siamo lì Oh my god Ohhhh L'esagerazione Adesso ti ricordi? Adesso si A noi stiamo in diretta su Twitch A alto livello Grazie Oh ma si Ah no Ok Raga che roba Nella vita tutto può capitare Sì ma il brudi è arrivato appena abbiamo preso il drink Allora E cambiavi così Ecco Guarda, guarda come sei già più carino che lo prendi così Te li devi asciugare col fondo Perché prima te li ho giustati sempre Dove me l'hai dato? Sì Dove me l'hai dato? Sono lenta qua Alle due Mi sono svegliato Ma scusami Ma ci sono svegliati insieme Grazie Sì Sì Prego Prego Grazie Allora, pastina, pastina di Brasio. Allora, direttamente da Brasile, made in Brasile, made in Brasile, made in San Paolo. Sì, si, spacca, bro, quell'orto, bro, sembra... Vabbè, non entriamo nei dettagli, prendiamo sto bonus. Madonna, puttana, va bene, cioè va bene un cazzo, però a me lo partiamo con un 5x che non fa mai schifo. No, buono, Bridi. No, buono, Bridi. No, buono, Bridi. Ma di dove siete voi, ragazze? Presi, voglio dire di dove sei. Allora, originaria oppure... Originaria, originaria. Aspetta, fammelo indovinare, tu sei Moldava. No. Non sei Moldava. No. Vicino. Io sono a un'ora dalla Moldavia. E che cazzo ci sta a un'ora dalla Moldavia? La... La geografia. La Romania, ok? Ah, sei Roma, Roma. Ecco, sono ai cofini, esatto, sono ai cofini proprio. Ok, ok, quindi... Quindi siamo lì. Bello. La mia regione si chiama Repubblica Moldova. E poi accanto per l'appunto c'è proprio la Moldavia in sé che è proprio... Rumena di Roma. Rumena di Roma, esatto, Rumena di Roma. Ed è subito, ed è subito free Paolo Fregna, esatto, streamer il rumeno numero uno d'Italia. Grande. E scusami, un piccolo... Allora, tutti in coro, Mr. Flame, vaffanculo! Mr. Flame, vaffanculo! Mr. Flame, vaffanculo! Mr. Flame, vaffanculo! Prendiamo le distanze assolute, non voleva essere assolutamente razzista, Non voleva assolutamente... Ma lei può farlo. Raga, sono su tutto il cuore moderativo. È ok, gli ami, ma non devi usare quel termine sbagliato. L'abbiamo sospesa, l'abbiamo bannata, i ragazzi, l'abbiamo bannata, tutto. Tranquilli, tanto... Non l'ho letto io. Gli facciamo capire che non si... No, basta! No, no, basta! Ma lei è fuori dal mondo, ragazzo, eh. Ma io che cazzo ti so di... Prendiamo le distanze, ragazzi, prendiamo... Io prendo le distanze assolute da questi termini che hanno usato. Devo fare una piccola gamba. Hai croccantini? No, non croccantini. Diego, oggi ti istruirò a trovare i tartufi, ok? Lo vedi questo? È un tartufino, Diego. Annusa, annusa. Devi trovarne altri, Diego. Hai capito come funziona? Annusa, annusa, Diego. Cosa... No, non vuole. Vabbè, scusate. No, era una gag, è CBD, eh. Io non... Non so, non andare dove sono... Ragazze, scusatemi, una domanda. Conoscete Maurizio? Ah no, ragazze e ragazzo, scusatemi. Conoscete... Scusatemi, buona serata. Ciao. Dovamo scappare, raga. Un bacio! Ho pagato la rosa con Satisfray. E vabbè. Se ci sia una roba, raga, vi racconto. Grazie. Rimbradire, praticamente... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Esatto. Che cheat? Vai, fettine alle bambole. Dovrei trovare la stasci. No, lo so, non lo so. Cazzo, le lezze cheat, queste. Noi siamo quelle che... Muntini, puntini, puntini. E poi, tu sai... Voi siete le delle streamer stasera. Noi, siamo noi, siamo. Non c'è loro. Pastine se sbordate in mutande. Sono però. Le nostre? Dipendo. Scusa, però, basta una bocce, vogliamo un casino. Sì, scusaci. Oh, grazie. Di là? Oh, non ci credo. E mo' c'è il drama, purtroppo. E mo' c'è il drama quello peso. E mo' c'è il drama quello peso, fratello. No. Vieni qua, più vicino a me. Mi rispetti, mi vediamo. È amore. Il nostro figlio. Grazie. Che mangia? Italiano. Solo per il tuo canale di Twitch. Guardalo. Quanti facciamo fare... Adesso ci bannano. Adesso ci bannano. Ma sì, raga, finché tutto vestito, tutto posto. Sto posto. Oh my god. Io sì. Ma si sono baciati. Ma veramente? Guardali. Troppo, troppo, raga, scusate. Si sta scaldando la sessione, ragazzi. Scusate, scusate. Senza casino. Lasciate i miei boncalieri senza casino. Ragazze, portate il give al milk o al black? Al black. Al bocca. E come uso la mia... I miei denti? E come attivi la masticazione. E come uso la mia lingua. No! Prendiamo il gelato. Ci facciamo dietro l'arena di Verona? La guancia, però. Vieni, 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 vieni. Vieni che mi scende. No, no, dai, no, c'è il tuo a me che svegli. Va bene, così. Vieni. Fate uno skin.